Onorevole Businne, che cosa non piace alla Lega Nord di questo documento di economia e finanza? Non piace che si sia trascurato nell'azione del precedente governo la legge delega 42 del 2009, soprattutto per la parte che riguarda l'attuazione del decreto sui costi standard e sui fabbisogni standard. Noi abbiamo stimato un risparmio di 20-30 miliardi a regime con l'attuazione di questo provvedimento e è stato del tutto accantonato se non per la parte delle leggi che riguardava Roma Capitale, su cui abbiamo espresso le nostre dure critiche. Prendere in considerazione questo aspetto quali benefici avrebbe portato? I risparmi, i famosi risparmi che sono tanto richiesti in periodi di ristrettezze dovuti sia ai vincoli esterni dell'Unione Europea sia alla contingenza economica italiana. Si cercano disperatamente fondi, si tagliano soprattutto le pensioni, anzi forse l'unico taglio fatto dal governo Monti riguarda proprio le pensioni che, lo ricordiamo, sono soprattutto destinate a cittadini del nord e quindi una volta ancora penalizzano il nord. E quindi aver dimenticato questi tagli importanti è stata una grave mancanza che probabilmente pagheremo anche non solo per il 2012 ma in maniera pesante anche nel 2013.